La città di Salerno è in trepidante attesa per il taglio del nastro della stazione marittima ideata da Zaha Hadid, architetto di fama internazionale recentemente scomparsa a Miami all'età di 65 anni. La designer di Rakena non potrà esserci all'inaugurazione della struttura che avverrà il 25 aprile. La stazione marittima di Salerno con la sua forma sinuosa a conchiglia colpisce e lascia un segno di piacevolezza guardarla, in particolare la sera quando l'intera struttura si illumina grazie ai led che rischiarano il tetto composto da piastrelle di ceramica. Un evento unico nel suo genere per il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. Credo che sia un momento di grande prestigio. Il progetto di Zaha Hadid è un progetto particolarmente significativo, bellissimo. Abbiamo già ricevuto richieste di accrediti da riviste internazionali di architettura ed economiche. Avremo a Salerno una festa della capacità del sud di proporsi sullo scenario internazionale, un sud quello di Salerno che non si lagna, che non fa lagna e non si lamenta ma si rimbocca le mani che lavora e produce.